Nelle baracche, dentro le baracche dove manca quotidianamente l'acqua, perché l'acqua viene errorata per tre ore al giorno, non tutti sono in grado di fare la raccolta necessaria al fabbisogno giornaliero della famiglia. Poi la luce, la luce che se ne va molto spesso, e questo è un grave inconveniente in quanto che nelle baracche c'è bisogno di una stufa, c'è bisogno di un po' di calore, la stufa è semplicemente elettrica perché non c'è altra possibilità e una volta che se ne va la luce si soffre veramente il freddo. L'aspetto generale, dal punto di vista igienico, è ancora critico, perché manca un ambulatorio, manca la farmacia, manca un pochino tutto, diciamo, e la gente è costretta.